Il bowling torna sotto i riflettori con il torneo Città di Napoli in programma dall'11 al 19 febbraio. Una manifestazione nazionale che in occasione della tappa storica dei suoi 40 anni è dedicata alla memoria del suo fondatore Angelo Fucarino. Il presidente del bowling oltremare Massimo Scuotto e l'assessore comunale allo sport Pina Tommasielli hanno presentato l'evento a Palazzo San Giacomo. Il Città di Napoli è un vanto della nostra società, è arrivato alla sua 40esima edizione, sono 40 anni di attività e quest'anno ci fortunatamente dedichiamo alla memoria di Angelo Fucarino che è il fondatore del bowling a Napoli e forse uno di quelli che ha dato origine al movimento bowling in Italia. Il Città di Napoli sarà giocato sulle piste dell'impianto del bowling oltremare di Fuorigrotta ed è uno dei pochi tornei di specialità squadra a quattro bowlers che si giocano in Italia. Molte le associazioni provenienti da tutta Italia che tenteranno di entrare nell'albo d'oro del Città di Napoli, che vedrà tra i protagonisti la S Oltremare con sei titoli, i Prinzi di Roma con cinque, i New Star di Torino con quattro e il Tiuna, campione in carica per due anni consecutivi. Napoli sta entrando in una fase magica per quello che riguarda lo sport perché c'è stata una maratona mondiale, di importanza mondiale qualche giorno fa, dopodiché andremo nella fase dell'America's Cup.